Tantissima energia, tantissimo vento, ma siamo molto contenti, abbiamo cominciato questa mattina Under 8, Under 10, questa è la penultima tappa della Coppa Liguria che è il nostro format itinerante per i più piccoli e insomma staremo qua fino a stasera sperando di resistere per il vento ma è una bellissima situazione, il campetto di Decathlon è fantastico, siamo molto contenti abbiamo 42 squadre del trofeo Ravalton e Ravano, oggi facciamo la penultima tappa della Coppa Liguria che è il nostro format itinerante, ogni mese una tappa in tutta la Liguria quindi insomma grande impegno devo dire da parte dei tecnici e degli organizzatori però grande soddisfazione come potete vedere alle mie spalle, grande tifo, genitori, contentissimi bambini super felici, questo è quello che ci piace, è lo che ci piace Le ragioni per provare questa disciplina? Allora la prima è che è uno sport particolare, un pochettino diverso, uno sport molto tecnico è uno sport dove conta essere rapidi nel movimento, nella tecnica eccetera e sicuramente provatevi e vi diverterete